Importante risultato per lo sviluppo e la ripresa post-Covid dell'economia molisana. È stato infatti firmato l'accordo tra Donato Toma e il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, teso a favorire l'accelerazione degli investimenti del Fondo Sviluppo e Coesione e intervenire con importanti risorse per la ripresa economica e produttiva. Si tratta di 138 milioni di euro che riconfluiranno nella programmazione 2021-2027. Dunque la Regione Molise ha messo al sicuro gli interventi già programmati posticipando l'avvio di quelli che necessitavano ancora di alcuni mesi per poter essere cantierati. Da subito ci sono le condizioni per portare avanti le progettazioni attraverso un fondo da 5 milioni di euro già nelle disponibilità della Regione e impiegare sul territorio circa 90 milioni a favore della ripresa sociale ed economica. Queste le azioni e le relative risorse, trasporto pubblico locale 8 milioni, interventi a sostegno della ripresa economica delle piccole e medie imprese 25 milioni, interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli 10 milioni, interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione 9 milioni e mezzo, interventi a sostegno della ripresa delle attività didattiche 10 milioni, interventi volti a favorire la ripresa e il rafforzamento delle filiere produttive 20 milioni, interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino 1 milione, interventi emergenziali anche di natura sanitaria ed economica connessi alle ordinanze di protezione civile 5 milioni per un totale di 88 milioni e mezzo. Con la stipula dell'accordo la Regione Molise contribuirà alla spesa nazionale sostenuta per l'emergenza Covid con 20 milioni di fondi europei.